È una bella sensazione anche perché diciamo che questo è il mio campo fortunato perché avendo fatto tre gol su quattro quindi penso che ci sono i presupposti per fare bene speriamo questa volta a favore del Teramo visto che ho sempre segnato contro Ho fatto secondo me più passi indietro perché io penso che la fiducia che ho avuto dall'allenatore che ho avuto all'Aquila non l'ho avuto da Castellammare, da Viterbo e da Siracusa penso per un giocatore, cioè la fiducia dell'allenatore penso sia la base di tutto perché pur secondo me un giocatore non tecnicamente forte ha la fiducia, ha tutte le potenzialità per fare bene spero che questa fiducia mi venga data qua a Teramo che mi mettono in condizioni per fare bene perché se io, almeno parlo io, caratteramente io se so che il mister ha fiducia in me la società è uguale, io ho tutte le potenzialità per fare bene io mercoledì quando ho saputo che mi dovevo trasferire a Teramo io potevo partire giovedì, io sono partito venerdì sera e sono arrivato la notte a Napoli ho dormito a casa dei miei genitori e poi sono ripartito giovedì mattina per fare allenamento giovedì e venerdì a sinistra do tutto me stesso perché essendo un destro a piedi invertito magari ho più possibilità di andare verso la porta perché pure sabato quando ho sterzato ho dovuto mettere la palla in mezzo mentre se ero a sinistra magari avrei calciato in porta magari il mister me l'ha detto che dovevo tenere più palla però questo fa parte del calcio magari potremmo prendere il gol in un'altra occasione magari che la potevo tenere di più e non l'ho tenuta quindi ora dobbiamo pensare a Pordenone perché ormai Ravenna è passato perché gli errori fanno parte del calcio però l'importante è subito ripartire perché sabato abbiamo un'altra partita importante contro un'ottima squadra grazie a tutti